Ecco qui, tu sei? Brian. Brian? Ah, ma ti ho fatto anche un autografo, eh? Sì. Ah, che bello. Allora, Brian, come stai? Bene? Benissimo. Sono contento. Ti è piaciuta la manifestazione? Tantissimo. Purtroppo per la cerimonia sono arrivato un po' a ritardo. Eh, ho capito, mi dispiace. Allora, Brian, un caro saluto. Continua a vedere i griffin, eh? E vedrai che se vai al cesso e scorreggerai bene, ti ricorderai ancora di più dei griffin. Ciao, eh?